La spedizione in memoria di Sigilò al Nanga Parbat è terminata il 27 giugno di quest'anno con la conquista della vetta. E il grandioso successo di questa squadra è stato tragicamente offuscato da chi non ha rispettato le direttive del campo base. Quello che sta dicendo il dottor Carmary Erlichofer non è la verità! Quanto è alto il Nanga Parbat? Abbastanza. E volete raggiungere la vetta? Beh, certo. Il Nanga! E ora dobbiamo solo scalarlo. Essere i primi sulla vetta. Il tempo sta cambiando. Devono tornare. Tornate indietro! Tornate indietro! Possiamo arrivare fino in vetta. Tornate indietro! Tornate indietro! Grazie a tutti.